Bentornati su Fall Guys, questa è la puntata non solo delle score radioattive, infatti come vedete c'è un personaggio totalmente radioattivo ma soprattutto questa è la puntata dello sciopero ragazzi, la puntata dello sciopero perché io adesso ho deciso di fare sciopero finché non vinco la corona, finché non vinco una manifestazione, una puntata di Fall Guys io non commenterò più, quindi io adesso prendo il microfono, lo butto dalla finestra, stacco tutto e finché non vinco io non commento più quindi guardatevi il mio personaggino radioattivo che ne fa tutti colori che casca, muore, ne fa tutti i colori tanto finché io non vinco, non commento più questo è lo sciopero, puntata dello sciopero ragazzi, quindi mi sono stufato, va bene? andiamo a giocare, non stacco il microfono vediamo un po', speriamo che il matchmaking ci aiuti però, eh dai, looking for players dai, su, su ok, ci siamo, dai io stacco il microfono, ci sentiamo, forse a fine puntata, non lo so forse, forse mi va ciao, a dopo ciao 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 Oh Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.